Ecco, la candidatura dei leader di partito all'elezione europea è stato un tema molto discusso. Ecco, secondo voi c'è il rischio di truffare gli elettori come dicono loro? No, basta dirlo prima. La consapevolezza dell'atto che si fa anche sulla preferenza è nella condivisione di uno schema politico esplicitato. E cioè si dice io sono in campo per dare una mano nella campagna elettorale ma poi farò altre scelte. E quindi si mette il cittadino elettore nella condizione di farlo o non farlo. Quindi direi a tutti, calmini, calmi, l'avversario si chiama, caso mai quello è il problema, di chi dopo due anni di governo, non avendo fatto nulla di positivo per questo paese, l'unica cosa che si dice è votare Giorgia. Sembra Totò, Sembra Totò Peppino e una mala femmina, ma che si vota per il nome di una persona. Lì c'è la furbizia, cioè quella di smantellare una storia di chi sta dei decenni in Parlamento, di chi gestisce potere come mai nessun'altra persona forse da anni in questo paese e per nascondere questa funzione di gestione del potere è come se costruisci un'immaginaria narrazione o siamo al bar, ma quella io lo trovo una cosa fastidiosa. Chi ha il potere deve assumersi le proprie responsabilità, dire perché lo usa, come lo usa, che cosa ha fatto, chiedere il giudizio sulle cose che ha fatto e chiedere il giudizio su quello che vuole fare. Chi vota Giorgia non ha la più pallida idea di quello che quel partito con i suoi voti farà nel futuro. L'unica cosa che si capisce è che sarà alleata forse con quelli che l'Europa la vogliono distruggere. Hanno paura a dirlo e quindi ha trovato questo triste spediente.